Riproduciamo di seguito l'audio articolo di Ascolta la notizia intitolato, Ucraina, FOA. Ritengo che la posizione dell'M5S sia plausibile in democrazia. Risponde a un sentimento di profondo smarrimento nella popolazione. L'ambasciatore Razov tende a strumentalizzare qualunque frase polemica che sorge nel panorama politico italiano e non solo. È abbastanza normale in un contesto di guerra di comunicazione. Così Marcello FOA, giornalista ed ex presidente della RAI, intervenendo a controcorrente, programma condotto da Veronica Gentili su Rete4. Io ritengo che la posizione dell'M5S sia plausibile in democrazia, debba essere esaminata correttamente e peraltro risponde a un sentimento di profondo smarrimento nella popolazione, che continua a non capire perché bisogna mandare queste armi e continua a non capire quale sia l'obiettivo finale del fronte occidentale, ha aggiunto FOA. Che cosa vuole l'Occidente e in particolare Biden? Vuole arrivare a un ritiro di tutti i russi dall'Ucraina? Vuole arrivare a rovesciare il governo Putin? Non si sa. Ritengo che la storia insegna che qualunque operazione di politica internazionale debba avere ben chiaro quale sia l'obiettivo finale, e io l'obiettivo finale dell'Occidente non lo vedo. Ricordo le dichiarazioni di Kissinger, che saggiamente diceva, attenzione, prolungando una guerra senza aver chiaro l'obiettivo finale rischiamo di fare il gioco della Cina, ha detto ancora il giornalista.